Allora, a parte la direzione dove stiamo andando, volevo comunicare che c'è posta per te! Eccole qua tutte le poste, dove andiamo? Scusate! Andiamo a sentire l'ultima informazione, la nostra inviata speciale. Allora, il monastero Aghiagreata è stato costruito nel quattordicesimo e quindicesimo secolo, è un monastero ortodosso, è stato anche parte set di un film. Che film? Solo per i tuoi occhi. Ingresso? 2,50 euro a persona. Allora, è vietato, come ha detto Romina, è venuta scrovvista. Vietato, gambe fuori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.